Elle, allora ti piace sempre la sigla? Sì, mi piace un sacco, ci sono i funghetti che mi esaltano. Poi c'è il tipo che si butta giù dal palco. I telespettatori non lo sanno, ma noi questa scena l'abbiamo già ripetuta un po' di volte. Ma questa volta va in onda così com'è, perché è veramente una sigla molto carina. Ringrazio le ragazze di Graficami e soprattutto gli elementi particolari che si aggiungono volta per volta. Quindi il bassista che si butta giù dal palco rispetto al cantante. E vi consiglio di andare a vedere sul sito internet. Presto metteremo anche la sigla linkata in versione video, così potete scaricare tutte le versioni della sigla che abbiamo fino a qui proposto. Molto fico, ma adesso siamo arrivati a quello che veramente è la musica, giusto Teo? Sì, volevo dirti tra gli sms della settimana che era arrivato anche quello di Fiorello. Cosa ci ha scritto Fiorello? No, Fiorello ci ha fatto i complimenti, mi ha detto che praticamente l'ho messo un po' nei guai ultimamente. Ah sì, perché mi dicono che gliel'hai suggerita tu la battuta quella su padre Georg, Teo. Va bene, ma iniziamo con la musica. Ma è vero? Eh? È vero? Eh sì. Ok. La musica MSR. Ha detto tutto lei.